la medicina migliore lascia riprendere per le orecchie ascolta Radio Zimari Web Radio Zimari Web la radio inizio settimana lunedì 12 settembre 2022 amici questa è Radio Zimari io sono Sesa Santomaura accompagnato da Antonio Sta Iti il mio nome? il mio nome è Antonio Antonio Sta Iti sono quello degli stacchetti di Radio Zimari Web e allora andiamo andiamo di fretta perché oggi tanti contenuti amici tanti contenuti in questa live si parlerà soprattutto di quello che è successo ieri alla nostra squadra del cuore cioè la Juventus un po' tutte le testate giornalistiche hanno parlato nonché le tv hanno parlato di tutto quello che è successo ecco negli ultimi minuti di Juventus Salernitana amici rimanete con noi tutto questo a Radio Zimari Web Radio Zimari Web il meglio della musica la trovate qui i pulsanti di Radio Zimari Web sono come quelli di un aereo se non tocchi quelli giusti non decolla mai e bravo Antonio e noi siamo pronti per decollare col primo brano in scaletta disco pilota amici Tiziano Ferro lento veloce goodbye my friends da Sassà Santomauro ed Antone Seiti da Panarea su Radio Zimari e dove se non scriverti è facile è veloce per uno come me non temo mai le conseguenze amo le partenze ridere è difficile è lento e posti un imprevisto solo se tocchi i tasti giusti riesce a decollare con Radio Zimari Web la Panarea con Sassà Santomauro e Antonio Seiti alla regia Dulcis in fundo Nadia Solani ha preso al terrore che dopo poche ormi chiamavi amore l'estate è tornata e chiede di te ritorna senza avvisare non dirmelo un parolarento spaglio veloce quindi devo riteterlo ti amo amore mio e non pensare a niente a te ci penso io ci penso io e buongiorno a tutti gli amici del mondo italiani stranieri come dice qualcuno siciliani e nonché agli amici dell'arcipelago ragazzi ci stiamo avviando alla fine dell'estate siamo quasi un po' tutti più rilassati e cominciamo a contare i sord è un ragazzo che l'amore concederà il terrore di restare soli cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre è cosa facile è cosa velocissima è cosa stupidissima è lento reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare sicuramente al grudale inutile e non lavorerò mai questa estate non vuole aspettare ritorna da me ritorna quando vuoi tu amo lento e corro veloce quindi ora mi fermo qui amo amore tiziano ferro ken holland e francesco mess con questo singolo lento veloce a radio z mari amici che trasmette da panarea isole e olie in studio sassa e antonio sta e ti in regia Nadia sul l'an oh c'è l'an oh se volete richiedere una canzone e fare una dedica è semplice basta telefonare al numero 331 2824 922 e noi vi accontentiamo ditelo con una canzone e salutiamo così tiziano ferro con lento veloce e noi amici andiamo al secondo brano in scaletta con occhi grandi grandi con il nuovo singolo francesca michelin parlami di te non ti conosco in metropolitana sedi all'ultimo posto ci sono un disastro sulle primi radio zimari web it's fantastic rido scusami presento ti ho già visto fare la stessa strada mia di venerdì su sasa santomauro un tuffo nella musica migliore sasa santomauro un tuffo nella musica migliore con con quell'aria di mistero io non so nemmeno il tuo nome e quanto siamo strani lo so che mi guardavi anche tu ma non mi hai detto mai fate un break spezzate con radio g mario web da panaria e da dove se no vorrei saltare ma mi spezzi la voce non so perché sembra di precipitare dai tuoi occhi grandi grandi come il mare vieni qui abbracciami guarda questa niente sembra inchiostro mi accompagni verso casa fermati c'è il rosso ci sono un disastro sbaglio sempre le parole sbaglio e poi mi mangio le mani io non lo capisco l'amore ma vorrei rivederti domani e quanto siamo strani lo so che noi siamo le tre s di radio g mario web ossia sassà santo mauro antonio steriti e nadia solani buon ascolti da noi con voi e per voi paracadute vorrei saltare ma mi spezzi la voce non so perché sembra di precipitare dai tuoi occhi grandi grandi come il mare vieni qui abbracciami francesca michelin a radio zimari amici occhi grandi grandi singolo uscito il 9 di settembre per cui è fresco fresco amici è come fresco fresco il brano che sta per arrivare dopo francesca michelin e nel frattempo voglio ricordare amici che radio zimari trasmette da panarea isole e olia e per voi amici di oltreoceano siamo in sicilia oggi è lunedì 12 settembre amici ci avviamo verso l'inizio di tutto e verso l'inizio sono i mattia bazar e prima vero amore a radio zimari web batte forte sempre io cercavo le tue mani per entrare nel tuo cuore e poterci dire poi è prima vera amore eravamo forse troppo piccoli ma io so che certe anime si uniscono per sempre siamo stelle uniche siamo indivisibili gli ascolti aumentano a dismisura tutto merito dei tre dell'operazione radio zimari sasà santomauro antonio stehiti e nadia son l'an danmi i tuoi sorrisi e i pensieri che tu suenti sono qui per dirti che e allora come dicevo prima oggi ci saranno tanti piccoli strati ecco il primo estratto per quanto riguarda quello che è successo ieri durante la partita Juventus Salernitana andiamo ad ascoltare uno dei più grandi giornalisti del panorama ecco televisivo Gianni Balzadini che ci spiega un po' cos'è successo veramente ieri ieri sera per quanto riguarda il gol annullato alla Juventus e di conseguenza l'espulsione di Milik e di Quadrato e di Allegri rimanete con noi amici tutto questo a Radio Zimbari web e dopodiché ascolteremo il direttore di eh eh di 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 qui studio di Tele Lombardia per quanto riguarda lo sport eh eh il direttore Ravezzani tutto questo sempre a Radio Zimbari web Radio Zimbari web la più bella musica italiana e straniera di oggi e di ieri e allora ragazzi ci avviciniamo un po' l'audio di Balzarini dicendo i Balzarini un po' così perché era l'uscita dallo stadio per cui eh si sente un po' così per dirla tutta era un video che poi questo video sta girando anche su youtube allora noi ragazzi andiamo subito ad ascoltare Gianni Balzarini amici buonasera buonasera buonanotte io faccio la postilla perché avrete visto il mio video piuttosto concitato però mi ero ripromesso anche di aspettare le puntualizzazioni della Moviola tutte le Moviole da Marelli a Cesari da noi hanno definito assurdo l'annullamento di questo gol perché poi è spuntata la posizione di Candreva avrete visto le varie linee tirate eccetera eccetera insomma ci sarà molto da parlare ci sarà molto da parlare perché la Juve aveva vinto questa partita lecitamente vinto questa partita l'errore cosiddetto tecnico non verrà mai ammesso ammesso che appunto si potesse parlare di questo ma toglietevi dalla testa che si possa arrivare ad una ripetizione di questa gara la Juve la deve accettare così come è deve fare il mea culpa per non averla vinta prima perché comunque l'aveva vinta questa partita e se l'avesse vinta prima facendo effettivamente la Juve non staremo qui a parlare di questo errore madornale madornale che certifica un 2 a 2 contro la Sanitana approfondiremo domani volevo solo aspettare la conferma delle moviole e l'abbiamo avuta ciao ragazzi e noi ragazzi abbiamo finito di ascoltare ringraziamo Gianni Balzerini per questa piccola informazione e noi andiamo ad ascoltarci un altro brano e dopodiché ci andremo ad ascoltare il direttore il direttore di Tele Lombardia Ravezzani allora ragazzi torniamo in Sicilia dall'ultimo romantico con qualsiasi cosa Mario Minuti Radio Gym di Web solo quando lo volete voi un ascolto dalle 3 SD Radio Gym di Web un sussurro un abbraccio infinite varianti del cuore trammi della camera da letto prendi nota non si butta via niente perché tutto si può rimontare come un artigiano riciclare le parole hanno in sé già la musica la musica in sé le parole spasimo nel petto della sera e nell'aria già la canta la gente si può fare una canzone con qualsiasi cosa è la vostra radio è la radio che ama chi l'ascolta è Radio Zimmery Zimmery Webb tu puoi fare una canzone con qualsiasi cosa qualsiasi cosa qualsiasi cosa sette note composte in milioni di modi diversi germinate nella nostra gioia e nel nostro dolore Voci della pienazione urbana Tu ascolta che non si inventa niente Però tutto si può rimontare Come un artigiano riciclare Parole hanno in sé già la musica La musica in sé le parole Spasimo nel petto nella sera E nell'aria già la canta la gente Con qualsiasi cosa 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 Parole hanno in sé già la musica La musica in sé le parole Parole la musica La musica e le parole Si può fare una canzone Con qualsiasi cosa E devo dire che Negli anni Negli anni Ha fatto Ha continuato sempre A portare Nelle orecchie delle persone Davvero Dei sound davvero particolari Grande Mario Venuti Con qualsiasi cosa Mario Venuti Dall'ultimo romantico A Radio G Mario Web E noi ragazzi Cosa facciamo Ci rifermiamo Nuovamente E ci andiamo ad ascoltare Il direttore di Tele Lombardia Su quello che è successo Ieri sera E ragazzi Ne ha davvero per tutti Rimanete con noi Altresì L'arbitro Avrebbe potuto Smentire questa segnalazione Della barra Ma Non se l'è sentita E quindi credo Che sia poi stato Il combinato disposto Di un Barista Che è andato Oltre A mio avviso Il suo mandato E di un arbitro Che Ancora che è giovane Non si è sentito Di Negare Comunque Il suo senso Questa interpretazione Che io Non possiamo Definire fine E cervellotica Cioè La differenza Sulla Decisione Che ha impedito L'Unventus Di vincere una partita Che poi possiamo essere Tutti d'accordo Giocato male Però ecco Non stiamo parlando Di una finezza Del regolamento Stiamo Parlando Di una Interpretazione Cervellotica Del regolamento Che Non è accettabile E un fatto Estremamente grave Perché questi due punti Peseranno Enormemente Sul campionato L'Unventus Noi sappiamo L'abbiamo visto L'abbiamo visto anche Purtroppo Proprio in campo Che la Juventus Non è La squadra Che tutti speravano fosse La Juventus Ha subito Per la Guitratti La Salernitana La Juventus Sa che sarà Un'altra stagione Difficile In attesa Che poi magari Arrivino Pogba Di Maria Chiesa Però insomma La Juve Che dal mercato Sembrava essere La squadra Tornata Fra i due o tre Favorite Sarà un'altra Stagione In cui Arriverà In volata Non sappiamo dove Difficilmente Il primo posto Magari al quarto Magari al terzo Magari al secondo Ecco Togliere questi due punti Per una decisione Di questo genere Non ha alcun senso Aggiungiamo un'altra cosa Che a un certo punto C'è stato Un fallo Su Vlaovic Che stava uscendo Dall'area di rigore Che a nostro avviso Era assolutamente Da vedere Perché è un difensore Che interviene Su Vlaovic E che Probabilmente Non prende la palla Prende Vlaovic E la Barli È stata silente Allora Qualcuno deve spiegare Qual è la razio Che porta poi Uno strumento Di questo genere A Inibirsi Di fronte a un fallo Che sembrava piuttosto evidente A un replay A tutti noi Che eravamo in studio Che vedevamo Tutte le persone Che erano Davanti al televisore Dove c'erano Molti argomenti Probabilmente Per dire Valore di vedere Perché Il difensore Non prende la palla E prende Vlaovic Che termina a terra Zitti Su una situazione Di questo genere Su un cavillo Di regolamento Invece è stato montato Un caso Che è diventato Una bomba E noi ragazzi Torniamo Torniamo nuovamente In studio Ringraziamo Il direttore Ravezzani Per questo piccolo Un po' Chiarimento Per gli amici Che non hanno avuto La possibilità Ieri Di guardare la partita Un po' Perché era domenica E sì E un po' Perché erano fuori Per chi era in viaggio Per chi stava rientrando Ecco Non ha avuto modo E ieri C'è stato davvero Un Un gran Un gran casino Però Il tutto Spero che Comunque Chi di competenza Possa Un attimino Risolvere Il suo problema Una volta Per tutti E noi ragazzi Torniamo alla musica Che è quella Per cui è nata Radio Zimbre E siamo Anche noi Qua A tenervi compagnia In questo lunedì Di Malinconia Gips King Mira la cica Mira la cica Lungi da me L'idea Di peccare Di presunzione Ma mi è venuta in mente Una cosa Mettendo assieme Le iniziali Di Sassà Santomauro Antonio Stavite E Nadia Solange Fa I nomi fanno San Quindi Un altro santo Sul web San Zimbre A Panarea Fate l'amore Con la musica Di Radio Zimbre E tutto diventa Più magico E lo sombra E lo sombra Está mirando E la niña Va bailando Este ritmo Muy piano Todo sigue Disfrutando Que no se para La fiesta E que siga E con pan Que la noche Está caliente Hasta con la madura Vamos juntos A la fiesta Y bailemos La rumbita Mira, mira Y la chica Mira, mira, mira Chica linda Cuando baila Lando y flamenco Esta rumba Ya mi son Mira, mira Y la chica Mira, mira, mira Chica linda Quando baila Lando y flamenco Esta rumba Ya mi son Mira, mira Mira, mira Chica Americana Italiana Mexicana Africana Mira, mira La nitana Si ascoltate Radio Zimbre Di Web Con le cuffiette La musica E le voci Hanno tutto Un altro sapone Parole di Boisca La noche Y all'alba Las mujeres Mira, mira Esta chica Mira, mira Mira, mira Chica linda Cuando baila Lando y flamenco Esta rumba Ya mi son Radio Zimbre La passione Per la musica Mira, mira Esta chica Mira, mira Mira, chica linda E' un bambino E' un bambino E' un bambino Il flamenco E' un bambino E' un bambino Radio Zimbre A Panarea Una delle sette perle Del Mediterraneo Dove il mio pensiero Non ritrovava più un sentiero Ma non ho smesso mai di cercarti Ogni secondo negli occhi degli altri Come un fiume in piena cerca il mare Come due rete perdute distanti Destinate lo stesso a incontrarsi Allacciatevi le cinture Da per iniziare la live di Sassà Santomaura Antonio Staiti e Nadia Solani Allacciatevi le cinture Stiamo per decollare Con Radio Zimbre Quante notti sotto un cielo senza stelle Lunghe così tanto quasi da sembrare eterne Ma non ho smesso mai di cercarti Ogni secondo, ogni passo in avanti Come se tu fossi il faro e Diorana Eravamo anni luce distanti Ora è certo che Eros Ramazzotti e amici Con Una vita nuova Dall'album Vita Cene E tutto questo amici A Radio Zimbre Che trasmette da Panarea Isole Olia In studio Sassà Santomairo Voce Stachetti Mister Antonio Staiti E ti E ti E ti Di una vita nuova Muoviti, muoviti E non fermarti Muoviti, muoviti Facciamo tardi Muoviti, muoviti Come le nuvole nel cielo Prendono la forma del pensiero Muoviti, muoviti Fra le mie mani Muoviti, muoviti Fino a domani Muoviti, muoviti E non fermarti E non fermarti E non fermarti Ma Yeah Perché ogni momento Sei la musica che sento E ogni movimento E ogni movimento E ogni movimento Sempre esattamente A tempo Tra di notti Guardo e penso Che sei bella In ogni senso E lo dico ancora Che sei tu il mio primo giorno Di una vita nuova Muoviti, muoviti E non fermarti Muoviti, muoviti Facciamo tardi A Radio Zinmari Web Radio Zinmari Radio Zinmari è per voi E con voi Sempre Radio Zinmari nel cuore Per sempre Solo adesso lo so Come sei Solo adesso lo sento Il male che fa E a questo punto Farò come sei Non ci fosse stato mai E vero amore Tra noi E non ti ascolterò Se mi cercherai E non ci sei tu Nei sogni Né ora Né mai Con noi Mai Mai al mondo Ti perdonerei Non importa se vinco Ma tu perderai Vedrai Sai che un attimo Vai vai E me ne andrò Sarò Un lancor Più veloce Del mio cuore Radio Zinmari nel cuore Finché il mondo Non si oscura Vai vai E non mi avrai Come un incanto Un effetto anche migliore Amici ed amiche Rimanete con noi Perché fra pochi giorni Ci saranno delle bellissime novità Ve lo farò sapere A presto Allora chi sei Io ti odio e più sento Perché ti vorrei Amici ed amiche Nadia Solange State ascoltando Nadia Nadia Solange Una delle tre S di Radio Zinmari Web Ah fermati qui Fare la più bella musica latinoamericana Sintonizzati su Radio Zinmari Web Ed ascolta Nadia Solange Nadia Solange La donna delle stelle Vai vai E me ne andrò Ehi ehi È tardi ormai Sono Antonio Perché tutto finirà Sono quello degli stacchetti Un attimo Io sono Antonio 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 Staiti Sono quello degli stacchetti Perché diciamolo pure Una radio senza stacchetti È come un albero senza frutti È come una barca senza il pescatore È come un libro senza le parole E poiché siamo in Sicilia Posso dire che Una radio senza stacchetti È come un cannolo senza la ricotta It was never easy lover When you've given all your heart to each other And then every time it's harder to recover We won't be young We won't be young It was never easy lover I just wanted you to I like that I like Radio Zimari Web Oh even further We won't be young We won't be young Sasa Santomauro Antoni Staiti e Nadia Solange I 3D Radio Zimari Web Radio Zimari Se non ci fosse Bisognerebbe inventarla Radio Zimari La radio per Antonomasia Radio Zimari The show must go on Radio Zimari Radio Zimari Web Top 100 Volete richiedere una canzone? Volete fare una dedica? Volete dire un ti amo Al vostro partner O alla vostra partner O magari un semplice Ti voglio bene Fatelo chiamando al numero 331-2824-922 Ditelo con una canzone Volete richiedere un brano? Volete dire un ti amo O un semplice Ti voglio bene? Easy lover 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 Insieme ad Antonio Staiti Stiamo ascoltando Eli Goldenang E insieme a voi ragazzi eh Mica mica ci dimentichiamo Infatti abbiamo voluto dare più ampio spazio alla voce del mister Antonio Staiti E vediamo ancora cosa da dirci Non ce l'ho con una canzone Volete richiedere un brano? Volete dire un ti amo O un semplice Ti voglio bene? Fatelo chiamando il numero 331-2824-922 Di Radio Zimari Web E noi andiamo ancora avanti Siamo al penultimo brano in scaletta amici Giovanotti Rock Arts E si fa bello per te Dall'album Oasi A Radio Zimari amici E ho un regalo che noi oggi facciamo un po' Un regalo Più che altro è una piccola contestazione, protesta Ecco per quello che è successo in questi ultimi due o tre giorni Sull'isola di Panarea riguardante Anche una cosa che ci riguarda molto da vicino A noi di Radio Zimari E soprattutto a me e a Nadia Oggi faremo una live insieme Dove un attimino cercheremo di dare dei punti Ecco ai problemi che stanno succedendo Per quanto riguarda la salute delle persone So che è un po' un problema grandissimo Per quanto riguarda la sanità Sulle nostre isole olie Ma in generale nella Sicilia Per cui votate Cateno De Lucca No, io non dico votate Cateno De Lucca Dico soltanto ragazzi Cerchiamo un attimino di trovare una soluzione Perché l'unione ragazzi fa la forza E la forza si riesce a sconfiggere tutto Parlo di forza, non di forza Prendere a calci, a pugni Ecco, forza, forza mentale ragazzi Forza del cervello È quella che fa sì che tutto si vada nella direzione giusta Tutto questo amici, questo pomeriggio In compagnia di Nadia e Sasà E accompagnato sempre dalla voce Agli stacchetti di mister Antonio Sfaiti Aria, fuoco e fiamma Radio in FM, raggi gamma Tra i nipi e nell'alba D'occhi lucidi Che hanno visto notti illuminati Dai disegni nari astroposcopici Chiusi dentro e boom Garanti atomici A cielo aperto Di un mistero Di un concerto Qui non si vive a rallentato Cassa che spinge come un motore A energia solare Cielo che si smicchia nel mare E si fa bello per te E si fa bello per te Qui non si vive a rallentato Cassa che spinge come un motore Stanno arrivando un sacco di richieste Ecco io vi chiedo sempre almeno di dire il nome O perlomeno la città E il prossimo brano ragazzi Che stiamo per arrivare dopo Mister Giovanotti E a Rocker E un brano E un brano E un brano di mango Bella d'estate E noi vogliamo farti un regalo Ancora più bello Visto che siamo Nel 2022 E chi è l'artista più amato del 2022 Nel panorama italiano Se non europeo Dopo vabbè Dopo Eros Dopo vari artisti E Tiziano Ferro Infatti abbiamo chiesto Scherzo Scherzo Lui che canta Bella d'estate Un brano di mango Tutto questo amici A Radio Zimari Bella d'estate E Tiziano Ferro Ah il brano Ce l'ha richiesto Armando Armando Da San Giovanni La Punta Ciao Armando Non ci penso mai Vedo che pianto Tu lo sapevi Ma da quando Bella d'estate Va Via da me Notte d'incanto Bello vedere E ragazzi Manca poco Per arrivare Ai 25 mila E mancano Una dozzina E ci siamo Quasi Molto molto Di meno Basta Di Va Via Da me Forse Perché Ti Credevo Felice Così Proprio Così Fra le mie Braccia Forse Perché Ci Bastava Arrivare Fin Qui Come Come Le onde Di notte Sulla Spiaggia Che Noi siamo zingari di periferia, i nostri son giochi che durano poco e la notte si riporta via. Radio Zin Mariweb, top 100. Volete richiedere una canzone? Volete fare una dedica? Sì, proprio così tra le mie braccia. Volete richiedere un brano e fare una dedica a chiamate? Chiamate al 331. Qui come omeni notte sulla spiaggia Oh, la 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 Oh, la 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 Oh, la 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 Chiudo gli occhi e ti senti per sempre così bella d'estate tiziano ferro dall'album accetto miracoli l'esperienza fa ragazzi l'esperienza fa tiziano ferro e voglio ricordarlo anch'io il numero di telefono visto che lo ha ricordato tante volte Antonio 331 28 24 922 queste radio zimari se volete richiedere un brano o richiedere una canzone anche per voi è giusto per il gusto di ascoltarla e andiamo ancora adesso ancora un'altra richiesta di un brano dei mattia bazar ritornano nuovamente da rosaria da ac castello ci chiede questo brano di ma dei mattia bazar non finisce così penultimo brano ultimo brano in scaletta amici e adesso vi spiego anche perché tornare ma sai mi mancava tutto di noi mi sentivo fragile ma in fondo chissà la ragione poi chi c'è io ci provo adesso non finisce così via del vento via da qui a sei giorni da qui telefonando al 331 28 24 922 di radio zimari web con radio zimari web potete ascoltare la vostra canzone solo quando le volete voi radio zimari web tutta un'altra musica tutta un'altra storia fate un pieno di musica con radio zimari web e sasà santomauro con radio zimari le emozioni continuano radio zimari web un mare di musica a sei giorni da qui gli stacchetti più belli li potete ascoltare solo su radio zimari web a panarea a sei giorni da qui sasà santomauro the voice con le braccia più d'arte che vogliono ancora un amore se ne parto da qui e non dirmi di no ma non finisce così ritroviamo la strada un sorriso una foto un cuore una rosa a sei giorni da qui con le mie verità non finisce così Mattia Bazar the best of l'album e noi ragazzi come stavo dicendo prima abbiamo deciso un po' di comuni accordo ecco con con l'amico Antonio di mandare di mandare come sigla di mandare come sigla il il nuovo singolo di suo nipote cioè Iele e abbiamo deciso che non ci sta male ecco allora grazie ad Antonio Staiti e andiamo subito alla sigla Radio Zimari Web la radio più bella le voci più belle sai che tengo un'ambizione voglio cambiare situazione dieci amici che mi amano gli altri sono Radio Zimari Web le emozioni non finiscono mai tu per me resti nessuno ora che non ho più Radio Zimari emozioni da sentire e da vivere non mi scambiare con altri fra se voglio arrivo primo 19 sto invecchiando ma miglioro come il vino sto sul cazzo di gioco come cazzo ci giochi sto sul cazzo i tuoi uomini mi sembrano invidiosi voglio fare i milioni non mi serve la bocca ogni tanto siete tutti falsi specialmente i professori non è necessario ma lo voglio sogno vivi è sul pozzo allargare il portafoglio sono ready sono ready sono ready sono ready non amici carcerati meglio il culo e maserati nella zona fra lo sanno non mi scambiare con altri sono ready sono ready sono ready sono ready vogliono fare guerra chi è più real il nome è Jelle4Real per le B e le 4DL tu non parlare che sei una spia quando passo in zona tua poi fra diventa la mia ho ancora bisogno di far musica per essere qualcuno lascia stare chi ti giudica la speranza muore ultima penultima è una lurida la testa è ancora lucida non pensare a chi dubita su TikTok le muovi il culo big pitch non rappare su un big flop lassù non fai due spicci i miei tengo nel big occhi i tuoi non hanno in picci un G non l'hai mai visto non parlare ma agisci e me la sono dilla Ricky se non credi è un nuovo inizio sono ready è inutile che chiedi la barca non ti va avanti senza qualcuno che remi i miei sogni sono grandi tu i tuoi sogni te li bevi non è necessario ma lo voglio sogno vivi è sul pozzo allargare il portafoglio sono ready sono ready sono ready sono ready non amici carcerati meglio il culo e maserati nella zona fra lo sanno non mi scambiare con altri sono ready sono ready ladies and gentlemen questa è Radio Zimmari io sono Sessa Santomauro insieme ad Antonio Staiti ci ritroveremo più tardi ciao 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 iscriviti al nostro canale